E' interessante, non vedo il tuo simbolo Dove l'hai lasciato il simbolo? Davanti alle scalo No Sei on- Te lo giuro Sei online Sì sì sì, no, no, sono online perché vedo le Vedo le, 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 i cosi degli altri Aspetta Ma sì che sono online, sì sì sì, sono online Che simbolo hai lasciato? Cos'hai usato per lasciare il simbolo? Il dito torto dei senza luce Io lo vedo, cioè lo vedo il segno di evocazione Segno dorato Dorato, dorato E' un problema, perché non ti vedo? Dio madonna, dio madonna Anche perché ora forse là ne vedo uno Però come lo tolgo? Eh, vacci sopra Ah, annullare, ah sì 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 sì, vedi perché ora ne vedo uno Ah, l'ho tolto Sennò Emma fai così, l'hai tolto? L'hai tolto? Sì, lo rimetto Eh L'ho messo adesso Preghiamo Cristo Che veramente non faccia così schifo Questo gioco da dover Da dover sprecare degli oggetti Perché vedo tutti meno che il tuo Porco Dio Minchia, ma non è possibile tutte le volte Cioè, è più il tempo Ah, è proprio al centro Proprio al centro Il problema di queste cose qua È che veramente ci metti più tempo A evocare i cristiani Che a giocare Perché poi adesso faremo due passi e moriamo Oh, well, you made it through that entire mess All the way to Stormvale And off you trottet To the round table Aspetta che? My sincerest Congratulations But How did you find The round table Oh, before the round table Was choc full of venerated warriors But now It's home to puff chests And has Vaffanculo ci fa Farò del mio meglio Non mi serve un posto Cosa ti devo dire? Non mi serve un posto Bravo, stai zitto Ehm Ema, l'hai attivato il bacino di evocazione? Cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Lo stavi facendo due secondi fa No, ma sono andato Cioè Sono andato da Una di quelle statue Eh, te l'ha fatto attivare? Ma io ho detto C'era scritto il bacino di evocazione attivo Bene Ok, quindi la risposta è sì Io però continuo a non vedere i tuoi segni Ah, ma mi ero gasato, cazzo Ho pure fatto un mese di plus Eh, che ti devo dire? Anch'io mi ero gasato, però Cioè, vedo i segni di evocazione di tutti Meno che il tuo Io vedo le macchie Ti ripeto Vedo le macchie di sangue Vedo i messaggi Eh, però io non so Non so che cazzo dirti Perché io ti ho fatto fare Tutto quello che c'era da fare Cioè, addirittura La cosa in più che c'era da fare L'altra volta con Beppe Non ci vedevamo Perché non sapevamo di sto oggetto Che si chiama Rimedio delle dita torte E va usato E io l'ho usato E una volta che l'ho usato Ho visto tutti i segni di evocazione Compreso quello di Beppe E ora però li vedo tutti Meno il tuo Siamo anche allo stesso punto Perché abbiamo battuto Lo stesso boss Vediamo se togliendo La password Lo vedi Togli la password Vedrai che Ne vedrai una caterba Non so perché Non vedi il mio Io È lì No, perché Cioè, se tolgo la password E non ci E non E non ci fosse nessuno È un problema mio Pronto È un problema tuo a prescindere Non vedo Non vedo niente E allora Ema Stai sbagliando qualcosa Cioè Stai sbagliando qualcosa Che famo Vuoi provare a lasciare di nuovo Il segno di evocazione Cerco io È tanto Da me abbiamo già provato per un'ora E il tuo non compare Questo mi sembra abbastanza Però scusa Non vedrei i messaggi Teoricamente Non c'entra un cazzo Perché magari per i messaggi Non serve il plus No, no Serve, serve Prima non li vedevo Ema io non so Cosa cazzo dirti Cioè Se non vedi i simboli di evocazione L'hai messo L'hai messo Lo metto adesso Lo devo mettere con la password O senza password Facciamo che Lo mettiamo Ah no, no Me l'ha sprettato l'oggetto Eh Muoviti Aspetta Ema Aspetta Qua La memoria finisce Io Multigiocatore Metti la password Ema tutto minuscolo E vediamo che succede Eh, bene Allora Te lo sto mettendo sopra le scale a sto giro Sulla pietra Così non puoi manco confonderti Te non hai idea di dove siano le catacombe Non ho idea di dove siano le catacombe Allora Cerchiamo di capirci Alle spalle Ehm Del tizio incappucciato Tu sulla sinistra Vedrai Vedi delle rovine Giusto? Sì Una montagnola Vicino Alla chiesa di L La vedi? Sulla sinistra? Ahà Perché devo scendere tipo giù Tu vai Vai a sinistra della chiesa di L A una certa Dovresti vedere Sta montagnola Con una statua Cioè guardi Vedi una statua in lontananza Una statua incappucciata Sta montagnola Con una statua Gobba Più che incappucciata Ah ma aspetta un attimo Catacombe Passo di tempesta Eh L'ho fatto quello Come l'hai fatto? È una cazzata Però allora Ema Io non ho più posti Dove evocarti Se hai già fatto Mi avevi detto Che avevi fatto un cazzo Hai già fatto gioco Praticamente Cioè No le catacombe È la prima cosa che ho fatto Eh però Ema Dio madonna Te l'ho chiesto prima Te hai fatto le catacombe No non le ho trovate Cazzo ridi Porco Io ma dove ti evoco? Non spieghi? Io Vabbè ma io posso fare Le tue catacombe Allora Invece di dire cazzate Lasciami il segno di evocazione Davanti le catacombe Proviamo qua Porco Lasciami sto minchia Di simbolo lì davanti Allora Aspetta Messo Dal palom Allora Non bisogna essere sotto Il rimedio di merda Pazzesco Non ci sei Ce l'hai Ce l'hai la password Sì Però scusami Presumibilmente Io comunque dovrei vedere Persona Al mio stesso Al mio stesso punto Non in questo punto Della mappa Perché a questo punto qua Della mappa Avete già fatto tutto Secondo me è quello Sei andato troppo avanti E mi avevi detto Ma Beppe a che punto Era Spugia Beppe Non lo so a che punto era Beppe probabilmente Aveva Margit l'aveva fatto Aveva già fatto Margit Secondo me Ma magari non Non i boss secondari Non lo so Però eh ma Non lo so La play l'hai già riavviata Riavvia la play Non so che altro dirti Però a questo punto Mi viene in mente una roba Cioè Se non Se non potessimo evocarci Non farebbe usare Proprio il dito Tipo qua da Margit Non lo fa usare Allora io Proviamo guarda Proviamo lì davanti Però mi gira il cazzo Che è un'area primaria Ma io non volevo fare le primarie In copp Comunque vediamo Io ti lascio Ti lascio il simbolo Ti sto lasciando il simbolo Subito dopo Sto portico E niente Non ti vedo Porco di Non lo fa usare Non lo fa usare